Covid è pesante il bilancio del bollettino dell'ASREM sul fronte dei decessi. Sono infatti tre le vittime nelle ultime ore. Si tratta di una donna di 92 anni di Campobasso, deceduta nel reparto di malattie infettive del Cardarelli, di una donna di 72 anni di Venafro e di un cinquantenne di Sepino, che erano entrambi ricoverati in terapia intensiva. Due nuovi ricoveri ininfettivi, mentre la terapia intensiva del neuromed è stato dimesso un paziente. I nuovi positivi sono 3 su 310 tamponi processati, uno a Castelmauro, due a Frosolone. Sono 36 i guariti. Gli attualmente positivi sono 617, mentre i pazienti ospedalizzati sono in totale 54, di cui 51 al Cardarelli, con otto ricoveri in terapia intensiva, due al Gemelli e uno al neuromed. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 471, mentre i guariti sono 12.034. Per quanto riguarda i dati sulla settimana che si è appena conclusa, l'andamento è favorevole. In calo il numero dei decessi, le vittime sono 3, mentre nei sette giorni precedenti erano 9. In calo anche il tasso di positività, che è sceso al 5,6% contro il 6,7% precedente. I nuovi contagiati da lunedì scorso, domenica, sono stati 235 su 4.172 tamponi processati. Gli attualmente positivi sono scesi a 653 contro i 658 della settimana prima. Pressoché stabile la situazione all'interno degli ospedali, 56 ricoveri per Covid, 14 pazienti in terapia intensiva, mentre i nuovi guariti sono passati a 236 per un totale di 11.998 dall'inizio della pandemia.